Le prescrizioni ambientali preliminari all'avvio dei lavori sono state rispettate. Il Dipartimento regionale ambiente ha rilasciato il decreto che attesta la conformità per il progetto dell'impianto UCO di Ecorigen che sorgerà all'interno dell'area della raffineria Eni di Contrada Piana del Signore. L'investimento riguarda il trattamento degli oli di cottura esausti per rigenerarli e destinarli al processo produttivo della Green Refinery. A marzo proprio il Dipartimento aveva rilasciato l'autorizzazione unica ad Ecorigen, nella società che ha avviato tutte le procedure per realizzare un impianto di trattamento degli oli di cottura esausti che da UCO, Used Cooking Oil, verranno convertiti in RUCO, Reconditioned Used Cooking Oil. La Commissione Tecnica Specialistica ha concluso l'esame sulle prescrizioni che erano state poste alla società. A maggio c'era stata la valutazione negativa rispetto al mancato adempimento di una delle condizioni. L'azienda ha però presentato integrazioni sulla nota tecnica, il trattamento delle acque meteoriche e la planimetria per gli innesti verdi del fitorisanamento, integrazioni che sono state accolte dalla Commissione Tecnica Specialistica. La verifica di ottemperanza, come indicato nel decreto, si è chiusa favorevolmente, anche se una delle condizioni risulta ottemperata limitatamente alla fase progettuale e non ottemperata per la fase di fine cantiere. Così si legge nel provvedimento. Il decreto, firmato dall'assessore regionale Toto Cordaro, riporta comunque che si attesta l'esito positivo della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative alla fase definita ante operam. La trasformazione degli uco in ruco nel processo di rigenerazione assicurerà supporto energetico ad un impianto centrale nel ciclo green di raffineria, il POT BTU. Le attività predisposte nel progetto si svilupperanno in aree interne al sito di raffineria, l'isola 13 e l'isola 9, dove si prevede un punto per l'arrivo di uco via terra. L'olio esausto di cottura aggiungerà non solo via terra, ma anche tramite nave. Il sistema è destinato alla lavorazione di non meno di 400.000 tonnellate all'anno di used cooking oil. A fine febbraio il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha autorizzato variazioni all'aia già rilasciata a Decorigen.